La quindicesima giornata del girone F di Serie D si apre con l'anticipo del derby tra Campobasso e Agnionese, fondamentale per la zona salvezza. In questo momento i tre punti possono fare la differenza tra retrocessione e zona franca. Restando nelle aree basse, la Iesina riceverà la capolista Matelica, con l'SN Notaresco che spera in un passo falso per riavvicinarsi alla vetta nella complicata trasferta di Forlì. Anche i romagnoli sono impelagati nella zona rossa. Unico derby abruzzese di giornata quello dell'Aragona, tra Vastese e Giulianova. Entrambe le compagini vivono un buon momento, tre risultati utili consecutivi. Una vittoria potrebbe significare l'aggancio alla zona playoff. Un pineto in striscia riceve al pavone Mariani l'ostico Castelfidardo per avvicinare ulteriormente la zona playoff, la quale dista solo due punti. I marchigiani sono reduci da sette punti nelle ultime tre uscite. Sempre in zona playoff, il Francavilla cerca punti importanti a Recanati, con i marchigiani già virtualmente dentro dopo aver rialzato la testa da Vezzano, in seguito ad un momento complesso. Solo quattro punti nelle ultime cinque uscite invece per i ragazzi di Rachini, che cercano finalmente riscatto. Tutte le gare avranno inizio alle 14.30. Grazie a tutti.